Ben trovati a tutti a questa nuova edizione di Tele Sicilia Notizie, in apertura come di consueto andiamo a vedere tutti gli aggiornamenti che ci arrivano dall'Italia e dal mondo, subito dopo tutte le notizie locali da Palermo e dal resto della Sicilia. Sarà votata in aula a Lars martedì prossimo la norma riveduta e corretta che non abolirà le province ma farà d'apripista alla loro soppressione. Il tutto si è sviluppato nella convulsa giornata di ieri quando per prima la Commissione Affari Istituzionali aveva bloccato il DDL proposto dal governo Crocetta perché scritto senza tener conto del grande ostacolo rappresentato dalle vicine elezioni per il rinnovo degli enti intermedi. Troppo ravvicinato il termine ultimo per indire i comizi elettorali previsti per il prossimo 27 marzo ed ecco che allora la soluzione è arrivata dalla conferenza dei capigruppo al quale ha preso parte anche il governatore Crocetta che ha varato la modifica del testo prevedendo prima il commissariamento degli enti che sarebbero dovuti andare al voto e poi la stesura di una legge che usando le parole di Marco Forzese presidente della Commissione Affari Istituzionali non abbia profili di incostituzionalità e non metta a rischio anche i finanziamenti statali attualmente gestiti proprio dalle province. Una legge da perfezionare entro sei mesi ha espresso serenamente la propria soddisfazione il presidente della regione Rosario Crocetta che ha ribadito come la Sicilia sarà la prima regione in Italia ad abolire le province sostituendole con i liberi consorsi tra comuni di secondo livello. Perfino coloro i quali avevano espresso maggiori perplessità sul DDL della giunta regionale ossia uno dei partiti in forza alla maggioranza di governo l'UDC hanno accolto felicemente la modifica e prossima votazione del testo con il quale per stessa ammissione del segretario regionale Gian Piero D'Alia si prefigura finalmente una radicale riforma delle province da fare in un tempo conguro. E' chiaro ha proseguito D'Alia che una buona riforma necessita dell'annullamento delle elezioni, del commissariamento degli enti e di una riforma organica che porti in sei mesi alla soppressione definitiva delle province. Su questo testo c'è l'assenso dell'UDC ha detto D'Alia che rivendica il merito di aver evitato una legge burla e un mero cambio di nome delle province. E se il capogruppo grillino Giancarlo Cancellere ha definito la legge una vittoria di tappa dal Movimento 5 Stelle non altrettanto entusiasti si sono professati gli esponenti del PDL e delle forze di centrodestra da sempre contrarie all'abolizione ma che, si è augurato Crocetta, possono comunque trovare margine per votare il test in aula martedì. La crisi occupazionale colpisce anche chi dell'orientamento al lavoro ne ha fatto la propria professione. Come per la formazione professionale tristemente balzata, gli onori della cronaca per stravolgimenti e tagli ai fondi e sempre a braccetto con i governi regionali che in questi anni si sono susseguiti, anche il settore delle politiche attive del lavoro ha subito negli anni profondi cambiamenti. Adesso la crisi riguarda un po' tutti i livelli del comparto e oggi, ad alzare la voce, sono proprio gli impiegati degli sportelli multifunzionali che si fanno sentire, seppur timidamente, senza proclami bellicosi o proteste di piazza e forse proprio per questo da tempo ignorati. È il caso dell'Endofa, appellente nazionale donnorione di formazione e aggiornamento professionale, i cui operatori degli sportelli non ricevono stipendi da oltre 16 mesi, fondi che proprio per la natura no profit dell'associazione dovrebbero essere garantiti dal Dipartimento Lavoro e di conseguenza dall'assessorato famiglia, al quale il governo Lombardo trasferì, tra le polemiche e l'incertezza generale, l'intero bacino di competenze. Circa 2.000 dipendenti dal futuro lavorativo oltre modo incerto, come quelli dello sportello di via Pacinotti a Palermo, che con la scadenza del piano di finanziamento triennale e senza al momento uno spiraio di rinnovo, ad ottobre si ritroveranno senza un lavoro. Il nostro ente, che fa formazione almeno da 60 anni e quindi è un ente che ha nel campo un'esperienza molto, ma molto pregnante, ha a sua volta un credito nei confronti degli assessorati che si interessano in formazione professionale di almeno 3 milioni, 3 milioni e mezzo di euro, che fino ad oggi non sono stati versati nelle casse dell'ente. Noi chiediamo che gli sportelli vengano trasformati in agenzie per il lavoro. Già noi siamo pronti in realtà, perché non solo abbiamo delle deleghe proprio degli uffici pubblici per quanto riguarda il rilascio dell'Adid, ma in questi anni abbiamo agito nel territorio in maniera così profonda che molte persone che erano in cerca di lavoro sono passate dai nostri sportelli per fare il curriculum, per mettere il curriculum in piattaforme nazionali per il collocamento. Insomma abbiamo un'esperienza molto pregnante e molto profonda nel settore. Il 30 settembre è l'ultimo giorno in cui noi presteremo la nostra opera coperti dal finanziamento, che è un finanziamento triennale e quindi questo è l'ultimo anno del triennio, ma dal primo ottobre siamo scoperti dal finanziamento e fino ad ora non sappiamo che cosa accadrà. Francesco Arancio, palermitano di 55 anni, camionista che viveva con i tre figli al CEP, ha perso la vita ieri in un incidente stradale. Il mezzo del quale era la guida è finito contro un albero prima di schiantarsi sul guardrail. L'impatto è stato così violento che la cabina del tir si è accartocciata su se stessa. L'autista, che non dava segni di vita, è rimasto per lungo tempo intrappolato tra le lamiere senza che i soccorritori potessero raggiungerlo. Ci sono voluti i vigili del fuoco per estrarre il corpo delle lamiere grazie all'ausilio della fiamma ossidrica. Solo a quel punto i medici del 118 hanno potuto constatare il decesso di Francesco Arancio. Il tragico incidente si è verificato sull'autostrada Palermo-Catania tra Villa Abate del capoluogo siciliano. Subito dopo l'incidente le segnalazioni da parte di automobilisti alla polizia stradale erano state numerosissime e raccontavano di un impatto tremendo. C'è stato anche chi ha provato a soccorrere l'uomo senza però riuscirci a causa delle condizioni del mezzo. A condurre le indagini sul luogo dell'incidente, coordinate dal comandante Francesco Gianbelluca, è stata l'infortunistica stradale di Bonfornello. Al momento l'ipotesi più accreditata sembrerebbe quella di un malore che avrebbe colpito il conducente che ha poi perso il controllo del camion. In questo momento le strisce blu a mio avviso sono abusive perché non esiste un piano urbano del traffico e quindi se l'amministrazione comunale è inadempiente rispetto al cittadino non capisco perché il cittadino debba comportarsi diciamo in maniera diversa rispetto all'amministrazione. Sono state fatte le dichiarazioni attorno relativamente al piano dicendosi che si tratta di un piano ormai obsoleto, di un piano vecchio e che probabilmente proprio in funzione di questi aspetti una volta approdato i passaggi definitivi dovrà persino essere ripensato. Allora mi chiedo perché questo non venga fatto immediatamente, mi chiedo perché ad esempio a Palermo non ci sia un piano per le zone di interscambio dove sia possibile ad esempio lasciare la vettura per poi prendere i mezzi pubblici, pur essendoci a Palermo una serie di parcheggi, quello di Viale Francia, quello nuovo della Zisa. Mi chiedo perché a Palermo ad esempio non sia stato pensato un piano di intervento strategico rispetto alle opere che sono state poste in essere. Penso alla zona del tram, alla zona dell'area metropolitana, con zone che sono state assolutamente distrutte dai lavori in corso, con carreggiate che si riducono e l'impossibilità per i mezzi di transitare. Dobbiamo aspettare forse che i commercianti possano chiudere definitivamente le loro attività perché davanti ai loro esercizi non possono più sostare le macchine. Insomma il punto è che non basta per questa città semplicemente piazzare gli autovelox in Viale Regione Siciliana e fare le multe per le macchine che sono piazzate in seconda fila. Non basta far rispettare le zone blu ma serve un piano davvero condiviso con i cittadini. I cittadini chiedono come mai io devo pagare una multa nelle strisce blu ma è legittima la sussistenza delle strisce blu mancando quello che si deve una norma generale che è il piano urbano al traffico? Ma è legittima se le strisce blu sono limitate alla zona del centro storico in quanto tale e tale è riconosciuto. Qui è invalso il costume di ampliare il concetto di centro storico per cui sembra quasi che l'intera città sia diventato il centro storico. Non è così. Anche qui bisogna distinguere fra due cose le strisce blu gestite dall'AMAT e le strisce blu gestite per concessione del diritto di superficie dalla APCOA che è una società privata. Mentre quelle dell'AMAT vengono notificate attraverso il servizio di riscossione, la SERIT, quelle dell'APCOA non possono essere notificate attraverso la SERIT quindi evidentemente c'è una differenza tra le due cose. Il rapporto con l'APCOA è un rapporto esclusivamente di natura privatistica e non attiene alla gestione di un'attività pubblica, di un bene pubblico ma soltanto alla gestione di un bene privato quindi la tipologia è diversa. Quelle dell'APCOA non possono essere chiamate multe perché non sono multe. Il rapporto tra il cittadino e questa società è un rapporto esclusivamente di adesione contrattuale allorché questa società ha avuto in concessione la gestione di questi spazi con le strisce blu e contrattualmente fa pagare una quota al cittadino che parcheggia ma un rapporto contrattuale di natura privatistica non è di natura pubblica tra virgolette quindi. C'erano oltre 15.000 file a contenuto pedopornografico nel computer di un operaio siracusano di 41 anni arrestato in flagranza di reato dalla polizia postale di Catania che attraverso l'operazione denominata abuse ha arrestato altre tre persone. Si tratta di un impiegato pubblico catanese di 51 anni di un operaio di Mantova di 41 e di un livornese. A vario titolo sono accusati di detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico il cui contenuto sarà successivamente analizzato dalla polizia postale coordinata dalla dirigente Marcello Labella. Nell'inchiesta sono state denunciate altre nove persone. In genere gran parte anche degli indagati detenevano materiale pedopornografico in alcuni casi come quello di Siracusa o un altro che si è verificato a Mantova a migliaia e migliaia di video pedopornografici. L'operazione condotta in sinergia con le autorità tedesche si è svolta tra le città di Roma, Salerno, Napoli, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Siracusa e appunto Catania. L'operazione ha riguardato il contrasto della divulgazione di materiale pedopornografico su internet tramite il programma IDONKEI 2000. La polizia postale di Catania è stata la prima a indagare sull'utilizzo di questo genere di software di file sharing. Le indagini sono partite da un'attività di cooperazione internazionale ed è una di quelle che deve fare strada come esempio anche per quelle future. Due diversi paesi, l'Italia e la Germania, che avviano un'attività di monitoraggio su un servizio internet quale quello di file sharing IDONKEI. In questo caso Catania, la procura distrettuale di Catania, ha per prima autorizzato in Italia questa attività di monitoraggio. La Germania fa altrettanto. Roma, che coordina ovviamente le varie polizie postali in Italia, ha affiancato l'attività di Catania con quella della Germania. 41 voti contrari, 23 voti favorevoli. L'AS ha bocciato ieri sera la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle per dire no al rigassificatore di Port Empedocle, per respingere il governo Crocetta ad annullare l'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto. Per il deputato Grellino, il saccense Matteo Mangiacavallo, l'opera avrebbe effetti nefasti sul territorio. Diversi gli interventi durante il dibattito. Roberto Di Mauro, MPA-PDS, ha preso opposizione a sostegno del rigassificatore, evidenziando il danno che deriverebbe alla regione se si stoppassa un iter già avviato. Favorevole anche Michele Cimino, di voce siciliana, che ha chiesto al governo Crocetta di avere notizie certe dall'Enel sui tempi di realizzazione e sui posti di lavoro. Esulta il deputato Lillo Firetto, che è anche sindaco di Port Empedocle, ma è critico con quanti musumeci e grillini hanno chiesto che si votasse a scrutinio segreto. È una pratica della peggior prima repubblica che va assolutamente censurata. Lillo Firetto parla di mozione assurda e attacca ancora il Movimento 5 Stelle. Io penso che questa mozione e l'immagine plastica che si è determinata in aula dice due cose. Chi si muove verso le chiacchiere e non individua possibilità di sviluppo per questa nostra terra e fa solo proclami demagogici e chi dall'altra parte invece tenta di fare le cose e di animare il tessuto produttivo. Avviso di garanzia per peculato continuato aggravato all'ex sindaco di Alcamo Giacomo Scala, un'altra tegola giudiziaria per l'attuale presidente di Anci Sicilia in vista della sentenza del processo per abuso d'ufficio prevista per lunedì prossimo. Procedimento che vede imputato anche il segretario generale del Comune, Cristoforo Ricupati. Oltre al politico alcamese, Guardia di Finanza e Polizia hanno notificato altri due avvisi di garanzia ad altrettanti componenti del direttivo della società che nel corso della gestione Scala si era giudicato il servizio di rimozione forzata dei veicoli. L'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Rossana Penna, è quella relativa all'affidamento fra il 2004 ed il 2011 del servizio tramite carroattrezzi all'ACS Pegaso, che poi divenne centro servizi Pegaso e quindi Seris. Le indagini si stanno allargando a Macchiadoli e sono divenuti cinque gli avvisi di garanzia già notificati. Cambiano comunque i capi di accusa. Peculato continuato aggravato per Giacomo Scala, mentre per le altre persone coinvolte nell'inchiesta, fra le quali il dirigente comunale, l'architetto Gaspare Fundarò, 65 anni, ed il responsabile della ditta che effettuava il servizio, il 44enne Davide Piccichè, i reati contestati vanno dal peculato al falso e dall'abuso d'ufficio fino ad arrivare all'estorsione. In pratica l'inchiesta vuole fare chiarezza sul costante rinnovo dell'affidamento del servizio carroattrezzi alla ditta che, nonostante le modifiche alla denominazione dei rami di azienda, continuava a non versare alle casse del comune di Alcamo il 38,18% degli introiti derivanti dalla rimozione auto, così come prevedeva il capitolato d'appalto. Le istituzioni siciliane contro il gigante societario Terna. La battaglia, adesso ufficialmente intrapresa, è per la modifica del progetto del nuovo elettrodotto sorgente Rizziconi che, secondo i comitati cittadini della Valle del Mela, produrrebbe ulteriori danni ambientali ad una zona già fortemente inquinata. Dopo l'intervento dell'assessore regionale Mariella Lobello lo scorso 8 febbraio, che aveva già espresso la volontà di governo Crocetta di invitare Terna a rivedere il progetto, ieri è stata l'assemblea regionale siciliana ad approvare la mozione promossa dal Movimento 5 Stelle e presentata in aula dal deputato Valentina Zafarana, con la quale si evidenziano tutte le criticità di un progetto che sarebbe in contrasto con le norme di impatto ambientale. L'ital di approvazione del progetto è stato molto tormentato e a tutt'oggi, nonostante l'autorizzazione unica del 2010, la presentazione del progetto esecutivo nel luglio 2011 e l'avvio dei lavori alla fine del 2012 sembra mancare la verifica di ottenferanza. Le numerose prescrizioni riportate nell'autorizzazione unica, infatti, assegnano i compiti di verifica del progetto esecutivo all'Arta Sicilia, all'Arpa Sicilia e all'Arpa Messina, presse cui uffici di Palermo e Messina non sembra esserci alcuna traccia delle suddette verifiche. L'obiettivo della mozione approvata dal Parlamento siciliano non è ostacolare la realizzazione del progetto, ma fare in modo che Terna preveda l'interramento dei cadi elettrici in gallerie schermate per evitare ulteriori danni alla salute. Adesso la società, che vantava tutte le autorizzazioni per la realizzazione dell'elettrodotto, dovrà rispondere ufficialmente alla Regione. E' così il cosiddetto modello Sicilia, che vede il Movimento 5 Stelle agire su alcuni punti in accordo con il Governo, offre anche a livello nazionale un altro esempio di funzionamento. La notizia di curiosità del giorno riguarda le frasi del Vangelo sui rotoli di carta igienica. La andiamo a leggere insieme sulla carta igienica. È già stato stampato di tutto. Dollari ed euro, cactus spinosi e fiori delicati. Auguri di buon compleanno, disegni erotici, sudoku, cuoricini, pupazzetti e persino una grattugia. Quella delle frasi del Vangelo però mancava. Un produttore di carta igienica finlandese ha pensato che a molti piace leggere in bagno. Perché non approfittarne allora per stampare sulla carta dei pensieri positivi tratti dalla Bibbia e dal Vangelo? L'intenzione del produttore era quella di diffondere amore e gioia in quel particolare momento della giornata in cui ci si chiude in bagno da soli e si può riflettere su tutto, anche sul senso della vita. Perché non iniziare la giornata leggendo frasi come Dov'è il tuo tesoro? Lì è il tuo cuore. Pronunciata da Gesù, molti i clienti soddisfatti, ma tanti anche quelli che hanno criticato duramente l'iniziativa, soprattutto i religiosi scandinavi, che hanno giudicato l'idea di pessimo gusto, se non addirittura blasfema. A causa del polverone sollevato, l'azienda ha ritirato il prodotto dal mercato ed ha chiesto scusa. D'ora in poi, sui rotoli, verranno stampate solo poesie e citazioni letterarie. Ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi rimando alle prossime edizioni. Arrivederci. Grazie. Grazie.